Ciao a tutti, seconda parte in cui demolisco senza pietà alcuna il ragazzo che entrò dalla finestra e si infilò nel mio letto, vabbè, se siete capitati qui per casa andatevi a vedere la prima parte, altrimenti non capirete nulla, qua c'è da accelerare le cose, perché questo libro è talmente orrido che devo demolirlo per troppi punti, ho troppe pagine di appunti, rischio di fare una terza parte, iniziamo. Eravamo rimasti che cosina Amber deve fare una festa a casa di Jake, cioè a casa sua e di Jake, Jake è suo fratello, perché la madre lavora, è sempre in giro per viaggi e lascia due adolescenti da soli in casa tutto il tempo, mi sembra giusto. Però, lei si veste un po', dopo aver detto che la sua amica, quella che indossa la minigone, è una bagascia in sostanza, lei si veste molto succinta e dice A Jake non sarebbe piaciuto il modo in cui ero vestita, però, probabilmente metteva in mostra troppa pelle nuda per i suoi gusti, anche se ero del tutto coperta a paragone delle troiette che lui e Liam di solito avevano intorno, sembrava una suora. Certo, ricordiamoci il sessismo e ricordiamoci anche che lei non sa difendersi da sola. I suoi pupilli, ovvero Liam e il ragazzo che si infila nel letto e il fratello Jake, devono tenerla a bada, se no alta aiuto, cioè questa qua è in barba agli orsi, veramente. Comunque c'è la festa, amavo ballare e lui era bravissimo, ci muovevamo all'unisono in modo perfetto, lo sentì eccitarsi ma non mi preoccupò affatto, lo sentivo premermi le sue reazioni addosso da quando avevo 12 anni e lui 14, si svegliava così ogni mattina e spesso ci si addormentava pure. Io le ignoravo e basta, ricordiamoci che lei ha questo problema che non può essere toccata perché ha subito il trauma del padre che abusa di lei, si si, le reazioni contro di lei, vabbè, positiva questa scrittura. Era stato strano la prima volta che era successo e mi ero spaventata moltissimo, vedete come si affrontano dei grandi temi in modo superficiale qui, ecco. Jake si avvicinò, sbuccando fuori dal nulla, perché loro sono lì a ballare e lui le preme contro l'ireazione e allora il fratello va a fare il cane da guardia. Amico, ma che diavolo fai? Quella è mia sorella. Jake, ehi, stavo solo ballando un po' con lei, questa è la sua canzone. Liam, devi stare lontano da mia sorella, ha 16 anni, cazzo, e lo sai cosa ha passato, non ha bisogno di ragazzi come te a darle fastidio. Intanto lei se ne va e viene avvicinata da un tale Trent, inutile, che di colpo mi spinse contro il bancone e mi si strinse addosso. Ma quanto sono repentini questi avvenimenti, ragazzi. Ovviamente lei viene salvata, mi sembra ovvio, così come era successo in edicola. Santo Dio, voleva baciarmi, ma a me stava bene, e se mi avesse toccato sentivo la testa girare, i pensieri così rapidi da non riuscire a controllarli. Ma la superficialità? Cioè, aiuto. Poi di colpo sparì, alzai lo sguardo confusa e vedi Liam che lo schiacciava contro la parete, con un braccio contro la sua gola, e te pareva. Oltretutto qua non è che si regolano i rapporti in modo pacifico, parlando. No, no, a botte, chiaramente, no? Anche il ragazzino, il padre di 50 anni, vabbè. Che c'è Angel? Mi chiese Liam, ma guardandomi preoccupato, perché lei inizia a piangere. Quello stronzo si è rubato il primo bacio. Sentite la cagata, eh. Di che diavolo parli? Perché lui dice, no, non è vero, non te l'ha rubato. Di che diavolo parli? Lo ha fatto invece, mi ha baciato e me l'ha rubato. Sì, è vero, ti ha baciato. Ma non è stato quello il tuo primo bacio. Lo hai dato a me, molto tempo fa. Cosa? Perché lei accusa lui di essere un puttaniere e dice, ma non ti ricorderai neanche il tuo primo bacio? Però lui, ti ricordi quando mi sono fatto male, cadendo dall'albero nel mio giardino? Avevo 13 anni e la gamba mi faceva un male cane. E tu mi hai chiesto cosa potessi fare per farmi sentire meglio. Ecco. E quindi, era Liam il primo bacio di lei e tra lei la cretina che non se lo ricordava, comunque. Era incredibile. Aveva degli addominali perfetti. Te pareva, mancavano solo gli addominali a dare qualità a questo libro. Allungai un dito, tracciando il contorno dei suoi muscoli, domandandomi come fosse a toccarli. E loro si baciano. Limonano. 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 Tornò a farmi scivolare la lingua in bocca con il suo sapore che mi esplodeva sulle papille gustative. Sfiorò al bordo della t-shirt che indossavo. La sua. Perché c'è il cliché di lei che indossa i vestiti di lui, ovviamente. E infilò sotto una mano, accarezzandomi una coscia e risalendo fino all'anca. Le sue dita tracciarono il contorno del tanga, finché non mi strinse un gluteo nel palmo della mano. Mi sembrava che la pelle bruciasse ovunque mi toccava. Ma perché? Adoro. Comunque no, non era Sean, il ragazzo gay stereotipato. Era Justin, ma sono tutti inutili i personaggi. Quindi, chi se ne frega. Perché vi ho detto nella scorsa episodio che c'era un tizio gay stereotipato che fa l'insegnante di danza e che indossa solo cose rosa. Ed è Justin. Perché poi viene detto che Justin è un caro amico di Liam. E omofobia portami via. Liam e Justin andavano molto d'accordo. Il che inizialmente mi aveva sorpreso. Perché non avrei mai pensato che un virile giocatore di hockey potesse diventare amico di un... 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 Gay, dichiarato. Articolo indeterminativo per dirci Un gay, via, via, Sean, dei Lager che amava indossare qualcosa di rosa ogni giorno. Mi ero sbagliata di grosso. Beh, ovviamente se sei gay non puoi essere virile. Di che stiamo parlando? Devi per forza amare il rosa. Mi raccomando, meno stereotipi. Comunque abbassai gli scatto le mani e mi resi conto che quella sua t-shirt che indossavo si era sollevata al punto da lasciarmi in piena vista al sedere coperto soltanto da un misero tanga. Non avevo idea di che rapporti ci sarebbero stati tra di noi dopo quanto era successo ma mi sentivo in diritto di provocarlo almeno per un po'. E questa è la tizia col problema mentale che non riuscì a farsi toccare dalle persone. Certo! Del resto mi aveva già vista in lingerie e la sera prima mi aveva guardato abbastanza quando mi ero sentita male ed ero rimasta solo con il reggiselo e tanga addosso. Ma che bitch sei! Tu che fai tanto quella non mi puoi toccare! E poi voglio provocarlo un po'. Ma perché? Insulsa, insulsa. E lui? Allora oggi mi permetti di truccarti? Cielo! Mi stava davvero chiedendo il permesso di farlo? Ma ci sei o ci fai? E al posto di malamorta qua dobbiamo chiederci ma il trauma? Scusa, ma te non avevi un trauma che ti impedisce di fare sesso con i ragazzi? Vabbè, è diventata una bagascia. Qua uso proprio il termine bagascia perché è così che lei definisce le ragazze che hanno una vita sessuale attiva normale, no? E lei invece è la santerellina che non si fa toccare. Ve l'ho detto che poi il trauma viene usato come spediente per farla diventare consunta, no? In verità... In verità no. Cioè, è approfondito male. Di colpo mi sentì come se qualcuno mi avesse piantato una sega elettrica nello stomaco e madò che sarà mai. Era stato con una tipa perché lei ha questi via che va con una tipa poi va con lei a letto, vabbè. Quello stupido idiota. L'avevo baciato, sul serio. E lui aveva fatto sesso con un'altra prima. Dio, che stupido puttaniere. sapevo di non potermi aspettare altro. In verità lui non ha fatto sesso con l'altra tizia. Comunque. Lei è talmente scossa che la prima cosa che fa è ordinare 20 ciambelle assortite soprattutto al cioccolato perché erano quelle che preferiva. Guarda, così scossissima. E ovviamente lei va a lezione di danza e trova Justin che ovviamente indossa qualcosa di rosa in questo caso un berretto. Iniziamo a lavorare su una nuova coreografia. Era difficile e complessa. Aveva qualche svolazzamento no, sollevamento azzardato. Il peggiore era quello in cui mi ritrovavo sulle spalle di Ricky chi è Ricky? E dovevo fare il volteggio in aria in modo da voltargli le spalle. Assaporate com'è scritta questa merda. E lui doveva prendermi al volo mentre gli finivo addosso. Subito dopo dovevo stringergli le gambe intorno alla vita allungarmi all'indietro toccando il pavimento con le braccia e rotolare via. Ecco, rotola via per favore. Fall away. Adoro. Comunque c'è questo momento what the fuck dopo la lezione di danza dove lei e lui si trovano tutti nudi. No, nudi no. Però bagnati e umidi sotto la doccia. Vabbè, chi se ne frega. Era più sexy che mai. Anche i vestiti gli si erano incollati al corpo. Avrei voluto accarezzarlo per sentire sotto le mani le linee dei suoi muscoli. E poi, due secondi dopo, Liam, cosa vuoi da me? Fissandomi le scarpe bagnate. Lui mi insinuò un dito sotto il mento e mi costrinse a sollevare il viso per guardarlo negli occhi. Preparatevi. Tutto. Per favore. Sembrò ancora più confuso perché lei gli dice ma tu hai scopato con la tizia? Non ho scopato con nessuno ieri sera. Di che diavolo parli? Liam, prima in macchina mi hai detto che sei stato con una ragazza a cui andavi dietro da un po' ed era per quello che eri così contento. E lui? In realtà non ti ho detto che mi ero portato a letto una ragazza. Ho detto che finalmente ero riuscito a conquistare una bellissima ragazza a cui andavo dietro da tanto tempo. Scopato. Conquistato. Non è la stessa cosa. Sei comunque un odioso playboy e non riesco a credere di averti dato il permesso di baciarmi due volte! Mi fissò con aria implorante. Era ferito. Glielo leggevo in faccia ma non sapevo come reagire. Se l'avessi lasciato fare mi sarei innamorata di lui e c'era una buona possibilità che mi spezzasse il cuore in mille pezzi. Non avrei supportato di perderlo. Era stata una costante nella mia vita e avevo bisogno di lui. Probabilmente più di quanto avessi bisogno di Jake. Jake si fece avanti e mi prese il viso tra le mani per poi chinarsi a baciarmi teneramente. Sappiamo che la decisione era già stata presa. Non era qualcosa su cui potevo ragionare valutando i pro e i contro. Quando Lia mi baciava tutto sembrava andare al posto giusto. Esattamente come doveva essere. Ma tu l'hai baciato la sera prima. Perché ne parli come se mi baciaste sempre? Vabbè, a parte che non ti ricordo i tuoi baci ma comunque. Lui, vabbè, e poi lui mi insinuò ancora mi insinuò cos'è che fa? La mano sotto il mento sollevandomi il viso. Stava sorridendo con quel viso col suo sorriso meraviglioso. Posso aspettare tutto il tempo che vuoi perché lui dice questa cosa quella ragazza sei tu e lei ma non posso stare con te perché non posso fare sesso perché ti ricordi che a pagina 2 ho detto di avere questo trauma che mi impedisce di fare sesso con i ragazzi e lui posso aspettare tutto il tempo che vuoi sono davvero pazzo di te e il sesso non c'entra niente. Era serio o mi stava ingannando per convincermi a cedere prima infatti spoiler scoperanno quasi subito e se ti dicessi che credo che si dovrebbe fare sesso soltanto dopo il matrimonio l'ho mise alla prova i suoi occhi scintillarono allora ti chiederai di sposarmi appena sarai maggiorenne a 18 anni potresti sposarti giusto? ma l'abuso ma la morta ma l'abuso ma l'aborta ma l'abuso sembrano scioglilingua no Angel perché lei dice ma tu sei un puttaniere non resisterei mai al fatto che non sono pronta per fare sesso perché ho subito un trauma ti ricordi e lui no Angel il motivo per cui sono stato con tutte quelle ragazze è che cercavo di dimenticarmi di te mi sveglio accanto a te ogni mattina mi fa impazzire respiro il profumo dei tuoi capelli quando chiudo gli occhi e immagino come se a sentire la tua mano sul mio petto starti così vicino ogni giorno ma sapere che sei così dannatamente lottana mi ha quasi ucciso chiama Kate Kate chiama per poter stare a dormire a casa di Cosini cioè Cosini sono Amber e Jake inutili se avesse ospitato Kate lui non avrebbe potuto dormire con me perché loro dormono tutte le sere vi ricordo perché lei avrebbe dormito in un sacco a pelo sul pavimento della mia stanza minchia bella prosa per tutto e poi lui per tutto il weekend non potrò dormire con te per tutto il weekend scusami ma non potevo dire di no i suoi sono fuori per il fine settimana e non voleva restare da sola e poi lei poi l'amica porta un film di zombie e lei subito ovviamente la caga sotto non dormivo bene quando non c'era Liam facevo degli incubi terribili su mio padre vedete com'è raccontata con superficialità questa cosa e ora avrei avuto anche gli incubi di zombie da quando avevo otto anni avevo trascorso solo poche settimane lontano da Liam per esempio quando uno di noi andava in vacanza oppure quando lui si era preso la varicella ed era dovuto star lontano per qualche giorno ogni volta che ero suona avevo incubi che mi facevano svegliare urlando poi lei dice pensa che lui sicuramente la tradirà perché lei non vuole concedersi perché è un ragazzo e dopo tutto il suo corpo credeva sul serio che non mi avrebbe tradito cioè praticamente l'idea è che siccome i ragazzi hanno le erezioni siccome ce l'hanno duro devono andarlo a ficcare da qualche parte mica possono resistere no mica sono dotati di autocontrollo quindi quindi per i ragazzi è normale tradire certo certo lo guardai allontanarsi che poi tu dici questa cosa la frase sotto è lo guardai allontanarsi con gli occhi che sentivamente si concentravano sul suo fondo schiena wow era davvero perfetto poi c'è questa scena trash in cui vanno in un ristorante il cameriere ci prova con lei e Liam la difende ma basta la terza volta che usi questo espediente addio comunque arriva Kate e lei lo dice al fratello la mia amica si ferma a dormire e il fratello oh quella ragazza non fa altro che flirtare con me e non mi dispiacerebbe neanche se fosse un po' più grande ma che diavolo all'età di mia sorella vabbè comunque guardano il film e lei ovviamente è in braccio a Liam cioè è palese cioè il fratello è un idiota che non ha capito che ci sono delle dinamiche tra Asgrid tra questi due vabbè perché vi ricordo che loro non possono mantenere pubblica questa relazione perché il fratello marca il territorio sulla sorella vabbè comunque ricordiamoci che questa è una vittima di abusi con dei problemi derivati da questa cosa alla fine del film ero praticamente in braccio a lui con suo grande piacere notai il ringonfiamento dei suoi jeans anche se copri velocemente la reazione con un braccio arrossi appena sapendo di essere stata io a causarlo perché era al tratto da me gli stavo addosso ripensai a tutte le volte in cui l'avevo visto eccitato quando era nelle mie vicinanze come a letto o quando ballavamo e mi domandai quante volte fosse successo a causa di quella attrazione mi morsi un labbro forse una volta o l'altra gliel'avrei domandato una vittima di abusi certo poi c'è queste grandi conversazioni tra Kate e l'altra scemonita non riesco a decidere chi ha il sedere più bello tu che dici ma se quest'uomo poi io mi son chiesto ma se quest'uomo non avesse gli addominali lei lo amerebbe comunque secondo me no passai le mani sul suo petto e le lasciai scivolare sotto la t-shirt accarezzando gli addominali scolpiti e facendolo rabbrividire levemente la risposta è no se i protagonisti degli young adulti non avessero gli addominali lei cioè le protagoniste non non proverebbero alcun amore per loro di sicuro oh ragazzi manca ancora tanto ce la dobbiamo fare però la sensazione che provavo dentro era una sorta di tensione calda e quasi dolorosa ma cerca di non pensarci perché mi spaventava a morte ricordiamoci sempre che lei ha un problema che non vuole essere toccata dalla gente certo lei si lamenta però perché loro fanno questo petting sono allergico al trash ragazzi lo sapete che a volte mi succede allergia primaverile o allergia al trash bah secondo me la seconda praticamente lei si lamenta che non possono copulare e lui risponde mi fai bruciare la pelle ovunque mi tocchi non so come spiegartelo poi lei poi siccome loro due non dormono assieme perché c'è Kate nella stanza lei pensa la notte fu terribile come previsto andai a letto suggestionata da quel film sugli zombie e anche quando riusci ad addormentarmi cominciai a fare incubi su mio padre erano più di cinque mesi che non mi succedeva l'ultima volta era successo quando Kate e Sarah erano state da me per il compleanno di Sarah ovviamente io e Liam non avevamo potuto dormire insieme e avevo svegliato tutti con le mie urla perché è lui che scaccia gli incubi a lei che carino vabbè comunque questo per direvi che un paragrafo sotto lui anche tu mi ecciti sì ed è parte del problema dichiarai abbassando lo sguardo al cavallo dei pantaloni del suo pigiama decisamente sollevato al momento oh ci sono più allusioni alle reazioni qui che il super sexy in calzini comunque arrossia ancora di più rendendomi conto di averlo fissato in quel punto e che lui mi aveva visto farlo oh merda era così imbarazzante scusami se il fatto che mi eccito eccita anche te mi fa paura a mesi sentendomi stupida e immatura poi vanno a giocare a bowling cioè decidono di programmare questa giocata a bowling si svegliano alle 6 di mattino della domenica per andare a giocare a bowling e c'è questo doppio senso in cui lei dice agli amici inutili e dai venite con noi così vi farò vedere come sono brava con le palle e niente ho riso scusate sorrisi un po' disagio ma alla fine non mi dispiaceva flirtare perché perlomeno finché i ragazzi non si facevano era sbagliata e cominciavano a toccarmi perché sono lì al bowling con Liam che le fa vedere come reggere una palla perché lei è brava con le palle ma questi doppi sensi mentre giocano a bowling perché perché poi Mark che è Mark inutile vuole provarci con Cosina e vuole braciarla e ovviamente arriva Cosino inutilità poi però il problema è che Liam e Cosina flirtano sempre più spudolatamente finché finalmente quel cretino di Jake ci arriva che fanno le cosacce oddio Liam perché lei finge di essere stata aizzata da Liam dice oddio Liam mi hai messo le mani addosso ma che bitch sei sei insopportabile era il momento per dire a tuo fratello che tu sei insieme a sto ragazzo e invece no lo fai passare per il coglione a parte che lui è veramente coglione ma comunque scena pietosa perché ve l'ho detto vi avevo già anticipato che le avrebbe fatto questa cosa da sciacquetta ovvero viene tra le ragazze le ragazze giro di amiche sceme di Amber viene istituita questa colletta perché i cosini sono insieme in segreto non lo vogliono far sapere quindi non lo sanno neanche le amiche di lei e allora dicono ma do ma diam è troppo figo scommettiamo su chi se lo fa ma se lo fa ne si so scopare mettiamo 20 dollari a testa e quando raggiungiamo una cifra chi riesce a scoparselo si piglia i soldi e visto che voi penserete lei pooretta la classica emo un po' sciatta un po' così un po' di buon cuore rispetto alle altre troiette come reagirà incazzata gelosa no ragazzi perché lei perché lei dice ah che bello io sono già insieme a Liam quindi ho probabilità di vincere la scommessa quindi io mi vesto la zoccola termine che ho usato nella prosa cosicché faccio credere alle altre che l'ho conquistato per la scommessa me lo porto a letto mi piglio i soldi quindi mette in paglio il fidanzato tra l'altro lo dice al fidanzato a Liam che lui coglione si incazza ma non è che si incazza cioè fosse capitato a me mi sarei incazzato a morte cioè come osa questa mettere in paglio il suo fidanzato con le amiche sulla scommessa per chi se lo scopa oltretutto lui scene ridicole di lui che va a scuola viene attorniato da queste lolite che se lo vogliono portare a letto poi finalmente appaiono almeno i citati genitori di Liam quelli che non si accorgono che lui che lui esce di casa tutte le notti per andare nel letto di lei molto bello molto fine molto elegante e dicono oh noi due siamo insieme ai genitori di lui e qua la madre racconta oddio lo sapevo e racconta il motivo perché cosino chiama cosina angel ve l'ho raccontato mamma sono morto perché c'è un angelo in casa nostra poi c'è questo problema finalmente la trama va nel vivo ma con esiti realmente trash il padre di lei si rifà vivo o meglio ci sono delle notizie si sente che lui vuole farsi perdonare per quello che ha fatto cosa che non farà ovviamente e vi ricordo che non c'è realismo perché lui ha abusato della figlia e è rimasto impunito addirittura si è risposato con una donna divorziata che ha un figlio adolescente e con la quale è affigliato per un altro c'è un altro bebè in sostanza e questo padre abusatore in realtà non l'è cambiato per niente lo vedremo nel dettaglio dopo comunque il realismo è andato a farsi benedire qua devo evocare ilenia ma il realismo cioè ilenia se stai guardando l'avrei fatto anche te sicuramente comunque la prosa ci informa sempre la grande qualità psicologica attorno al personaggio di Amber stava per stuprarmi quando Jake e Liam erano arrivati e l'avevano riempito di botte ricordiamoci che Jake e Liam avevano 13 anni quando hanno messo in fuga un uomo di 50 anni violento e spregiudicato sì credibile comunque Jake scopre che i cosini sono in love nel senso ve l'ho detto che mi sono incazzato perché Jake dice ma vi volete bene sì allora ok 200 pagine di romanzo con sta tresca che devono amarsi in privato perché il fratello di lei non deve saperlo e poi il fratello lo scopre pam a posto mi prendi per il culo sì mi prende per il culo Kirstie Mosley che ha scritto questo libro opposta per essere demolito da me comunque incredibile va avanti la scommessa e giustamente lui si incazza perché lui dice Angel non voglio che tu stia con me per una scommessa perché perché lei porta avanti sta scommessa si veste un po' da bagascia per provarci con lui che insegnamento eh degradante per le povere elettrici di 13 anni che ci credono a queste cose e tra l'altro lei alla fine sembra quasi che voglia fare sesso con lui per vincere i soldi non sto scherzando è così che appare nel libro e lei si fa prescrivere la pillola del giorno dopo vabbè e e e poi lui tra l'altro si incazza perché lei è andata dal ginecologo da sola perché dice sono contento che tu abbia preso l'iniziativa ma io non sono come gli altri ragazzi io ti amo e gli altri ragazzi non amano le fidanzate come amo te questa tua decisione è stata importante e sarei voluto essere al tuo al tuo fianco per incoraggiarti è andata a farsi prescrivere la pillola nel giorno dopo che cazzo devi andare a fare anche te ma comunque chi sei incoraggiarti per la pillola nel giorno dopo ma chi sei Liam il ragazzo pompon ma per favore comunque c'è questa scena di lei nella vasca lei legge un libro nella vasca ed è talmente presa dalla storia che non ci dice cosa sta leggendo è già questo vabbè l'acqua si è raffreddata perché lei è presa dalla lettura e lui scena trash potevi finire in ipotermia tipo la tira fuori dalla vasca ma stiamo scherzando e lei Liam se volevi farmi scaldare ti sarebbe bastato spogliarti ma che little bitch è oltretutto ma il trauma di nuovo mordendomi un labbro tornando ad ammirare pettorali addominali con la voglia improvvisa di passarci sopra la lingua che trash ragazzi e lui io adoro tentare di entrarti nelle mutandine in un altro young adult io avrei definito lui come un poraccio uno scimmione ma lei è peggio lei è insopportabile da prendere a sberle mi spiace proprio per farla svegliare fuori cioè ma ma perché comunque e lei ti tocca ti tocca aspettare vedere sai ora oh e ti do il permesso di toccarmi un po' oggi se vuoi ma vi rendete conto concessi in tono casuale ma che tono casuale e lui toccarti così le sue dita mi percorsero lentamente il corpo dal viso giù sul collo sul seno e il ventre per poi posarsi proprio sull'interno della mia coscia aveva la mano così vicina al mio gluteo pulsante al mio nucleo pulsante il nucleo pulsante il nucleo pulsante no maria io esco perché manca tanto tra l'altro mi sa che se ne farà una terza parte qua che non riuscì a trattenere il piccolo gemito che mi sfuggì dalle labbra lo stuzzicai scostandomi dopo essermi sfregata con discrezione contro la sua erezione meno male lei che ti avevi il trauma comunque ripeto di nuovo scena a scuola oh mio dio allora c'è questa scena di lei che si mette la gonna corta e spiega all'amico Sean che le serve per conquistare per fare capire alle ragazze che lei sta provocando lì per intascarsi i soldi e Sean oh allora è questo che serve la gonna sì credi che funzionerà oh sì che funzionerà oggi tutti i ragazzi della scuola hanno parlato delle tue gambe da urlo devo ammettere che perfino io che sono assolutamente innamorato della mia ragazza ti ho dato un'occhiata e poi tra l'altro c'è la roba trash ed è anche le sue amiche anch'io ti ho guardato il culo anch'io ti ho guardato il culo e non sono lesbica comunque mi alzai e mi misi seduta sul tavolo davanti a lui appoggiando un piede sulla panca in mezzo alle sue gambe così da toccargli l'inguine ma per favore poi c'è un c'è un momento in cui lui preso dal panico la prende la sbatte nello sgabuzzino e gli fa un succhiotto le fa un succhiotto Liam mi stai facendo un succhiotto e lui ti sto marchiando come una mucca al pascolo ma cos'è poi marinano la scuola e dicono no saremo in punizione ma scusa ma l'avete già fatto di andare marinare la scuola per andare a pattinare ma che diavolo ovviamente vanno a pattinare e poi era così sexy mentre pattinava così potente e abile certo e oltretutto per per giustificarsi anziché dire firmare la giustificazione esco perché sto male vanno a chiamare Jake per dirgli devo uscire da scuola perché sto male ma Jake è tuo fratello che potere decisionale ha su concederti o no di uscire dalla scuola nessuno vabbè comunque ho parlato per mezz'ora manca poco non so se fare una nuova puntata o no bah ma sì dai facciamola vi dico solo che nella terza puntata ci sarà proprio la resa dei conti col padre e concluderemo concluderemo malissimo malissimo sempre peggio sempre peggio e niente vi aspetto domani e alla prossima un bacione ciao ciao incredibile incredibile